Sanremo alle porte e malgrado il brutto tempo di questi giorni, la foschia sugli ospiti si dirà da sempre più. Un altro big ha infatti annunciato la sua presenza sul palco dell'Ariston, direttamente dal profilo Twitter. Si tratta del cantante belga Stromae, ospite musicale nella serata di sabato 22 febbraio. Sono felice di essere ospite alla finale di Sanremo 2014. Ci vediamo presto Fabio, ha scritto Stromae sul proprio profilo Twitter. Un vero colpo per il Festival di Sanremo dato che Stromae, con il suo cantautorato 2.0, in Francia ha appena conquistato il titolo di artista dell'anno. Una musica particolare la sua, pseudonimo di Paul Van Hever, capace di far accedere a un repertorio di emozioni diverse fra di loro. Le sue note fanno divertire, ballare e si frullano fra i ritmi classici dell'hip hop, dell'electrodance e delle percussioni africane. I testi sono forti e reali, raccontano la sua vita, quella di un giovane ragazzo quasi maturo, considerato da molti un dandy malinconico. Nelle sue canzoni ci sono storie di emigrazione, povertà, storie di differenze e di migliaia di meticci come lui. Ransine Carre, il suo ultimo album, ha venduto oltre 2 milioni di copie.